ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con le risposte ai vostri commenti come al solito i commenti con ciao bravo complimenti considerate come se avessi già risposto grazie a tutti e via col primo commento che è un commento diffamatorio scritto da daniele negroni sotto al video sui diavoli la magia nera e scrive questa cosa anni fa ho conosciuto due orchi dell'occulto milano due criminali della magia avete una minima idea del danno che può fare la magia avete presente dell'atroce dolore che streghe stregoni maghi eccetera possono causare le persone alle famiglie a minori e senza che ci si possa difendere anni fa sono entrato in un negozio esoterico praticamente ho perso tutto quello che avevo di più caro in questa vita anni fa io e mia moglie siamo entrati nel negozio libreria esoterica primordia a milano questo individuo balordo che tentò anche la strada come scrittore dei libri di magia sotto falso nome successivamente si fece conoscere un suo amico lentini di origini siciliane si faceva chiamare adolfo appunto per ricordare hitler in quel periodo faceva la guardia giurata ma era più al cimitero che al lavoro una persona altamente pericolosa in corpo aveva solo odio rabbia invidia di una cattiveria senza pari abitava vicino a galeazzi costui segue la via della mano sinistra era collegato a un mago di sirmione e a gruppi satanici queste due persone stupide e ignoranti e molto bugiarde ci fecero proposte inaccettabili troppo sporche e schifose rifiutiamo assolutamente evidentemente questo rifiuto non è stato digerito e si sono vendicati i miei genitori compresi quelli di mia moglie sono deceduti tutti in data 17 persi anche i figli di 6 e 12 anni non hanno avuto pietà nemmeno per due innocenti mia moglie finita in carrozzina e tante altre disgrazie avremmo preferito trovare un cialtrone truffatore ciarlatano ma mai e poi mai due criminali collegati a gruppi satanici certo è buona cosa stare lontanissimi da tutta questa gente e da tutto ciò che vendono compresi libri di magia stregonerie eccetera una volta esisteva l'inquisizione quindi un motivo ci sarà evidente che anche loro si erano accorti di qualcosa di magico di qualcosa di terribile non avevano altro modo per difendersi se non quello di procurare terrore paura oggi speriamo che tutto ciò che riguarda l'esoterico venga messo fuori legge ecco dopo tutto questo commento ho fatto le mie verifiche anche perché questo commento il signor negroni che era scritto me l'aveva già messo un anno fa sempre sotto lo stesso video io l'avevo cancellato per non avere casine ma qui si tratta di diffamazione e anche pesante perché quello che lui chiama adolfo lentini che si faceva chiamare adolfo per ricordare hitler non è vero per niente andiamo a vedere cosa fa questo qua cercando in giro informazioni su questo daniele lentini se ne trovano tante ma tante a partire da linkedin ma questo qui che lavoro fa chimico di formazione cosmetologo per alcuni tra i maggiori gruppi di profumeria commerciale commodities broker cioè procacciatore di pietre preziose e materie prime pregiate per conto di banche europee e privati e questo qui sarebbe uno che ammazza la gente fa le fatture li fa morire in modi brutti per vendicarsi perché le sue proposte non sono state accettate o ma cosa scrive questa è diffamazione totale in più lo stesso commento l'ho trovato su un altro sito che parla di paranormale e più o meno è scritto le stesse cose però scrivendo che tua moglie era in brutte condizioni rischiava l'infarto quindi c'erano variazioni e scrivendo anche che eravate in giro per strada senza un soldo ma come non avete un soldo però continua a stare attaccato internet a postare questi messaggi diffamatori sì sì mi sa che andrò dai carabinieri o alla polizia postale perché io non voglio essere partecipe di diffamazioni sul mio canale non voglio queste cose e soprattutto questa è diffamazione bella e buona perché anche cercando commenti informazioni sulla libreria primordia quella che tu diffami tanto tutti invece sono soddisfatti tranne qualcuno che dice vabbè si trovano i soliti libri che si trovano ovunque però tutti gli altri sono tutti soddisfatti quindi quello che stai dicendo non corrisponde al vero e se davvero hai da fare qualche denuncia contro questo signor lentini vai a farla tu dei carabinieri non che continui a diffamarlo in giro scrivendo queste cose quindi l'unica soluzione per me è rivolgermi o ai carabinieri o alla polizia postale vedrò ma passiamo al prossimo commento che è di signal hunters sotto all'ultimo video con le risposte ai vostri commenti e scrive all'ericavur posso dirti a prescindere da chi non gradisca la tua presenza c'è un'associazione che cerca di salvare e rimettere in sesto il posto ho verificato di persona andandoci di recente con la scusa di essere il passato ad arola solo per rispondere ad un tuo follower c'erano dei ragazzi a modi presidio che ci hanno spiegato il tutto ragazzi giovani e volo interosi e sullo stesso argomento blanca mi ha mandato un messaggio su facebook ciao ho visto il tuo video e volevo dirti che l'ericavur non è più esplorabile perché per fortuna il sindaco di trino vercellese lo ha comprato dunque se qualcuno volesse fare esplorazione non si può più per fortuna e poi per quanto riguarda quel capannone dove c'erano quei sacchi bianchi per fortuna ci sono dati da fare questo grazie a te che a differenza di altri urbex che vedo su youtube che cercano sempre di nascondere e dicendo pure che non si può rilevare il posto come se fosse di proprietà loro idioti oltre che la durata del loro video fanno tagliate fa anche schifo invece fossero tutti come te almeno si potrebbe far segnalazione a chi di dovere per ripulire ricostruire per poi farne di nuovo uso visto che c'è uno spreco totale grazie a tutti e due dell'informazione quindi all'ericavur oltre all'associazione i ragazzi non si va più perché è proprio stata comprata dal comune di trino meglio così speriamo che rimettano tutto a posto perché è un bel paesino quello rimetterlo a posto sarebbe cosa buona e giusta per quanto riguarda le fabbriche abbandonate quella lì coi sacchi la insa sì lì mi è andata bene che il mio video è stato visto da gente influente e quindi stanno agendo comunque martedì sera avrò una riunione a tradate dove presenterò tutte le problematiche che ci sono nelle varie fabbriche abbandonate lungo il fiume olona se qualcuno fosse interessato può venire l'ingresso è libero per tutti sempre sotto all'ultimo video con le risposte ai vostri commenti abbaio alla luna scrive anche io mi sono sempre chiesto che lavoro facessi certo che se vivi solo del reddito dei tuoi mercatini devi essere benestante con quello che costa tutto ciao marco e benestante e sono talmente benestante che sabato sera non esco sto in casa non vado a ballare ogni tanto mi salta qualche esplorazione perché non ne so di per fare la benzina comunque già sei secondo che mi chiede di fare questi video con le spiegazioni sulla mia storia magari ne farò uno dai magari lo farò il prossimo commento di fra sempre sotto lo stesso video inquietante la voce registrata al castello della rotta sembra un andate via ma arrabbiato di bassa potenza però il microfono all'ospedale mi ha lasciato incredulo non so cosa pensare davvero la voce che dice chi è l'ho riascoltata però con l'amplificatore e oro dei dubbi sembrerebbe pronunciare un nome forse simile a martin però nemmeno io riesco a capire ancora bene complimenti per i contenuti che ci porti sempre marco grazie allora martin non penso proprio è un suono è una voce dice qualcosa è sicuramente una voce ma non riesco a capire cosa dice la storia del microfono di garbagnate che l'ho ritrovato anzi non l'ho ritrovato io l'ha ritrovato uno che stava facendo l'esplorazione insieme a me è stranissimo anche io non so come spiegarmela eppure il microfono è stato ritrovato lì e io ce l'avevo a casa e un microfono come quello non lo tratto in quel modo proprio no e ancora sotto allo stesso video di nuovo abbaio alla luna mi scrive marco ma perché non ti aggreghi in esplorazione con altri urbex così riusciresti ad andare più lontano e avere nuove iscrizioni al tuo canale guarda ogni tanto faccio esplorazioni con altri però a me spesso piace andare anche da solo perché mi piace stare da solo non so fare le esplorazioni da solo mi dà quel qualcosa in più che farmi in compagnia molto spesso non mi dà comunque ogni tanto vado con altri anche non sono sempre da solo ma andiamo avanti sotto al video del backstage della mia nuova canzone my motorcycle e tra l'altro sia canzone che video usciranno su youtube martedì 6 quindi fra pochi giorni alle 17 30 non perdetevi il video comunque sotto al video del backstage stefano scrive marco che bello il faro azzurro che hai a casa nell'interno mi dai le specifiche il faro azzurro che si vede in quel video è quello lì che ho dietro e dall'altra parte rosso sono i faretti che ho normalmente puntati dietro sono i fari che mi ero fatto io artigianalmente per fare i concerti dal vivo eccolo lì allora come si vede sono 1 2 e 3 fari bianchi normalissimi sono faretti a led di croici da 6 watt e io gli ho messo su le plastiche colorate blu verde e rossa in modo da fare le luci colorate tutto qua e sono anche gli stessi faretti questi qui che uso per fare le fiere per illuminare la bancarella sono dei semplicissimi faretti di croici vediamo se riesco a toglierne uno esattamente ci sono quelli a vite o quelli così a due poli e insomma da 6 watt sono e 6 watt uno dice ma è pochissimo invece fanno una bella luce comunque come vedi sono fari bianchi e io gli ho messo su la plastica colorata sempre sotto lo stesso video nel backstage delle riprese della mia nuova canzone my motorcycle sia alberto che stefano mi scrivono più o meno la stessa cosa marco non potevi mettere una videocamera sul furgone marco ma cassetto cinematografico professionale ps potevi mettere una camera sul furgone allora la videocamera sul furgone ci avevo pensato anch'io però poi le riprese sarebbero fisse fisse in quel punto e senza un minimo di movimento ho preferito fare la mano perché sono più vive sono più più mosse non è solo una cosa fissa così che si muove a destra a sinistra e comunque il risultato lo vedrete martedì alle 17 30 per quanto riguarda l'assetto cinematografico professionale come visto è tutto artigianale luci fatte da me il tavolo del bar era fatto con un travatello messo lì con sopra delle assi e la tovaglia che uso per fare bancarelle insomma tutto molto artigianale ma anche una cosa artigianale se fatta bene può rendere e arriviamo così all'ultimo commento di oggi sempre sotto al video col backstage delle riprese della mia nuova canzone my motorcycle ivan scrive ciao marco sono ivan dalla sardegna bellissimo il tutto ma mi chiedevo quei suoni strani sottofondo cosa è sembrerebbe un cane poi non so comunque si sentono dei rumori strani e naturalmente ti ho anche mandato un video quando l'ultima volta hai fatto il video del peperoncino ma non mi hai letto un abbraccio e commenti se mi scrivi bello bravo già sai che è come se avessi già risposto grazie quei suoni che senti sotto hai sentito proprio bene era un cane siccome due ragazzi che hanno collaborato per fare il video avevano un cane non potevano lasciarlo fuori l'aperto al freddo era qui con noi è bello che ogni ripresa commentava a modo suo ma commentava quei rumori strani sono proprio i commenti del cane bene detto questo vi ricordo di nuovo che martedì uscirà il video della mia nuova canzone my motorcycle su youtube alle 17 30 non perdetevelo nel frattempo continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed music and travels iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video commentate i video condivideteli e lasciate un like iscrivetevi anche ai miei gruppi su facebook urbex e mystery dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni viaggi in kayak dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak date un'occhiata sempre su facebook alla mia pagina to speed artigianato dove trovate tutti i miei lavori strigianali a domenica mi trovate al mercatino di natale a canegrate quindi vi aspetto lì e nel frattempo per youtube vi do appuntamento al prossimo video oh yeah oh yeah